Siamo partiti con la scuola di danza, dal 5 di luglio partirà il cinema sotto le stelle, ovvero dal lunedì al giovedì fino a metà settembre ci sarà il cinema sotto le stelle. Poi abbiamo il nostro giocattolo che era quello del dialettale, il dialettale che praticamente siamo la dodicesima edizione di dialettale. Naturalmente questa arena era nata sul dialettale con il nostro amico Fabio Guccioni che è stato l'ideale socio della Tre Ponti, dell'Arena BCC che purtroppo abbiamo perso solo un mese e mezzo fa per un tumore naturalmente che era l'asse portatore dell'Arena, era il suo giocattolo, era il suo partecipare, Fabio non c'è più. Quest'anno sarà dedicata una serata proprio al nostro Fabio Guccioni che era stato l'ideatore dell'Arena BCC. Dicevo tutti i venerdì dialettale, il sabato musicale e domenica con qualche chicca, quest'anno abbiamo una chicca in più, noi eravamo alla ottava edizione di gara di Brazzellette e quest'anno ci siamo un po' trasformati perché i concorrenti erano sempre quelli purtroppo. Trovare i nuovi concorrenti è difficile. Cosa abbiamo pensato? Di portare gli ultimi quattro finalisti della SAI, l'ultima di Mediaset, perciò avremo un concorrente che sarà una gara, sarà una serata comica. Uno viene da Roma, l'altro viene da Perugia o Umbro, il nostro bicio che è di Fermignano interno qui e l'altro viene da Modena. Abbiamo quattro personaggi, i quattro finalisti della SAI, l'ultima perciò diciamo che avremmo alzato un po' il livello della Barzelletta, perciò serate musicali dicevo abbiamo praticamente tre o quattro serate importanti, una con la Rossini Orchestra, la cover dei Queen, Queen Mania che vengono da Milano, la cover di Vasco, praticamente abbiamo tre o quattro serate importanti. Questo è un luogo importante nella nostra città, quando pensiamo ai centri, pensiamo sempre ai centri storici, al lungomare, qui c'è uno spazio che è diventato un fulcro per tante iniziative, uno spazio di partecipazione perché tutto quello che c'è qua è il frutto del volontariato, è il frutto dell'iniziativa, delle associazioni presenti qua, a cominciare dalla Proloco, dalla cooperativa Tre Ponti e l'Arena BBCC è proprio questo, uno spazio poliedrico dove si va al cinema, c'è il teatro, c'è la musica, concerti, varietà, insomma è un ricco programma per tutti i gusti come si usa a dire. Prego, quello che mi piace è sottolineare che il programma di quest'anno si è superato, ogni anno è un crescere ma quest'anno veramente è un programma ricchissimo, a dimostrazione che il luogo cresce, è sempre più atteso ed è diventato un punto di riferimento.